Ancora il Lido, ancora Venezia, la mostra del cinema è la numero 71 e le promesse per una delle più belle vetrine della settima arte sono quest'anno particolarmente allettanti a fare per primi la passeggiata in laguna i protagonisti dello strano quanto applaudito ultimo film di Alejandro González Signarito. Strano perché il regista messicano dopo quattro anni di silenzio abbandona per la prima volta il terreno dei film drammatici. Michael Keaton è il protagonista di Birdman, una storia ampiamente sovrapponibile a quella dell'attore proiettato nell'Olimpo hollywoodiano dal ruolo di supereroe nei due film di Tim Burton. Ora è le prese con la difficile scommessa di una pièce teatrale come regista e attore, nel cast d'eccezione ci sono Edward Norton, Emma Stone, Naomi Watts. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti.